Bella a tutti i Fortniteers, ben ludi sulleontube, in questo video andiamo a fare la missione della settimana numero 12 acquista un'arma da un distributore automatico e da un personaggio veniamo sempre in questo punto dove facevamo le missioni anche ieri qui compriamo l'arma e qui c'è il personaggio qui vicino no l'hanno ucciso ma noi possiamo comunque comprare l'arma anche se l'hanno ucciso ecco qua e la missione è completata se il video vi è piaciuto mi raccomando un bel mi piace condividetelo con i vostri amici nei vostri social non dimenticate di lasciare un commento e come sempre se vi va vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti ciao a tutti